Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala. Una giornata di martedì soleggiata con locale instabilità sui rilievi seguirà il transito domani mercoledì di una debole saccatura atlantica con aumento generale dell'instabilità. Giovedì temporaneo miglioramento specie lungo la costa. Nuova breve fase instabile. Venerdì il dettaglio. Oggi martedì 14 luglio poco nuvoloso lungo la costa con qualche nuvola in più apponente, addensamenti più consistenti nelle aree interne, in particolare sull'Imperiese e il centro Levante con brevi rovesci o isolati temporali al più moderati. Venti deboli o moderati a prevalente regime di brezza lungo la costa dai quadranti settentrionali sui rilievi. Mare poco mosso, localmente mosso, apponente per onda da est in graduale calo. Temperature massime stazionarie lungo la costa tra 26 e 30 gradi nelle zone interne tra 25 e 29 gradi. Domani mercoledì 15 luglio al mattino nuvolosità irregolare più compatta sul centro ponente con rovesci sparsi e isolati temporali, più probabili nelle aree interne ma senza escludere brevi sconfinamenti sulla costa. Fino al primo pomeriggio accentuazione dell'instabilità con fenomeni possibili su tutti i rilievi interni, non esclusi brevi episodi anche sui litorali. Successivo miglioramento prima di sera partendo dalle zone costiere di Levante. Venti lungo la costa deboli e prevalente regime di brezza sui rilievi moderati dai quadranti meridionali con rinforzi pomeridiani sul centro ponente. Mare generalmente poco mosso, con tendenza d'aumento a largo in serata per onda da sud ovest in ingresso nella notte. Temperature minime stazionarie lungo la costa tra 19 e 21 gradi, nelle zone interne intorno a 14 e 15 gradi. Massime in diminuzione lungo la costa tra 26 e 29 gradi, nelle zone interne tra 24 e 27 gradi. Dopodomani, giovedì 16 luglio, soleggiato lungo la costa con locali addensamenti sul centro ponente, irregolarmente nuvoloso nell'interno con possibilità di brevi rovesci isolati temporali di moderata intensità sui rilievi più probabili tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane. 20 regimi di brezza lungo la costa, deboli meridionali sui rilievi con locali rinforzi nel pomeriggio. Mare generalmente mosso il mattino a Levante sui litorali esposti di ponente per onda in scaduta da ovest, in graduale calo nel corso della giornata. Nel pomeriggio passaggio a poco mosso a ponente. Temperature minime stazionarie lungo la costa tra 21 e 23 gradi, nelle zone interne tra 14 e 17 gradi. Massime in aumento lungo la costa intorno a 27 e 28 gradi, nelle zone interne tra 26 e 28 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!